Musica Le ruralia di edizione 2015 per la terza tappa sono giunte a Sant'Angelo le Fratte, una prova che è pienamente evocativa di questo territorio, si tratta della vendemmia, come sempre i 15 team in gara si daranno battaglia e chissà chi riuscirà in circa 5 minuti a riempire con velocità proprio le proprie bisacce e quindi risultare vincitrice con tantissimo vino in canna. Sindaco, pienamente coinvolti ancora una volta, il vostro territorio dalle ruralia di 2015, una manifestazione che vuol far conoscere ai territori stessi e ai centri stessi l'intero Marmoplatano Melandro e si riparte per la terza tappa da qui. Certo, è stata una scelta intelligente e lungimirante da parte del GAL, che ha raggiunto un ottimo obiettivo con questa scelta di mettere in rete, perché lo scopo proprio di questo progetto è quello di creare una rete tra i comuni e ci sono riusciti. Si parla naturalmente di vino, lo si fa attraverso la prova della vendemmia, che è diretta espressione appunto di Sant'Angelo Lefrat. Certo, diciamo che siamo a tema con il comune di Sant'Angelo Lefrat, visto che con l'evento delle cantine ormai sono 20 anni che abbiamo questo grandissimo evento e che è stato un grande successo e quindi sicuramente avrà un prosiegue, uno sviluppo sicuramente migliore. Come detto è un'opportunità questa delle ruraliadi, anche di crescita del territorio stesso, differenze anche nella squadra di Sant'Angelo Lefrat per questa edizione nuova. Certo, diciamo crescita, ma più che altro è una crescita culturale. I nostri giovani così crescono nella socializzazione, è un modo per stare insieme, conoscere altri posti, i nostri comuni del nostro territorio che molte volte non sono conosciuti. Questo è un modo anche per poter scoprire territori che molte volte noi crediamo di conoscere, ma non conosciamo a fondo e questa è l'occasione per farlo. Si trova Sant'Angelo Lefrat in una dislocazione strategica della provincia di Potenza che guarda ormai prossima al Salernitano. Può essere anche motivo di richiamo le ruraliadi per richiamare anche dall'altra parte di questa montagna alcune comunità per far visita? Sì, diciamo che già con i nostri eventi questo è avvenuto. Effettivamente abbiamo una posizione logistica che è eccezionale. Siamo alle porte della Campania, quindi abbiamo anche la possibilità di avere come utenza tutta la Campania, il Val di Diano in particolar modo e questa è anche l'occasione per farlo. Attraverso le cantine, attraverso le ruraliadi, attraverso anche i nuovi percorsi che vogliono far sviluppare quest'area, dove si guarda al futuro per questa comunità? Nel turismo sicuramente? Beh, diciamo che l'obiettivo principale nostro ormai è diventato il turismo, quello di valorizzare il nostro dettore in particolar modo e quindi di far rimanere e far crescere il turismo, cosa che in passata non si pensava assolutamente. Oggi stiamo pensando solo al turismo, ci stiamo riuscendo. È una sfida, però i risultati già ci sono. Auspici per ormai un'estate che sta per terminare verso la fine d'anno e una comunità che guarda già verso il 2016 per incrementare queste attività. In che modo? I nostri risultati che sono già positivi è quello di non avere solo un turismo a periodo, cioè quello estivo, ma quello di raggiungere un turismo in tutto l'anno. Ci stiamo ormai riuscendo, abbiamo tante occasioni per poterlo proporre e abbiamo una bella presenza per tutto l'anno e quindi i risultati ci sono. Noi siamo soddisfatti, diciamo. In ultimo, se è ancora all'inizio di questa competizione, vincerla può essere uno stimolo per i giovani del posto che si cimentano nelle ruraliadi. Io sono sempre del parere che l'importante è partecipare, quello è l'obiettivo principale. Poi se si vince, ben venga, è un valore aggiunto alla partecipazione. Per la terza tappa delle ruralie di 2015 si arriva a Sant'Angelo Le Fratte. Rimarcato più volte il territorio del vino lo si fa attraverso la prova della vendemmia, una vendemmia del tutto particolare che vuol celebrare il vino ma che viene svolta non propriamente proprio con il nettare degli dei ultrafamosi. Sì, è vero. È un gioco che trae origine poi dal vino che tanto ha dato alla comunità di Sant'Angelo. In primis pensiamo all'evento le cantine. Ovviamente non lo abbiamo fatto, organizzato con il vino vero, altrimenti è mercerare e preziosa. Quindi sarebbe stato un peccato poi scialacquare tanto buon vino in questo modo. Useremo dell'acqua colorata che però poi riprende lo stesso colore e consistenza del vino. Nel frattempo arrivano alle nostre spalle tutte le squadre e i team ormai pronti per questa prova che ha delle differenze rispetto allo scorso anno. Sì, nel numero dei giocatori perché ruralia del secondo anno e questo ce ne dà enorme soddisfazione, è cresciuta, quindi è venuta poi da parte delle squadre la richiesta anche di allargare anche la composizione dei giocatori tappa per tappa e quindi anche il gioco di questa sera a Sant'Angelo sarà allargata a cinque concorrenti. Due di queste sono donne, possono fare la differenza? Vedere le prime due tappe, ecco questa possibilità, anzi questa imposizione da regolamento, fa la differenza alla fine? Beh, io direi che questo è un messaggio subliminale perché oggi le donne fanno la differenza e noi usiamo anche ruralia per ribadire questo concetto. Ieri nella tappa di Sasso di Castalda la donna faceva la differenza perché accorciava il tempo che mediamente poi registrava ogni squadra. Si parla ancora di territorio attraverso i prodotti, ancora una volta gli stand e poi il finale in musica hanno già aperto nella seconda tappa i Basilischi Roots per abbracciare se vogliamo un pubblico ancora più giovane. Sì, stand gastronomici, si parla ancora di itinerari turistici, domani ci sarà il percorso Salviano al Vallone del Tuorno, abbiamo già una ventina di prenotazioni acquisite, contiamo di raggiungerne altre e poi chiuderemo la serata come ieri con il Basilischi Roots, con la loro splendida compagnia. Ieri hanno scaldato la piazza di Sasso di Castalda dove notoriamente la temperatura è un po' più bassa rispetto a un comune come Sant'Angelo più collinare, però scalderà gli animi, visto che ci sarà bisogno anche di chiudere in festa e in gioia come tutte le altre serate anche questa serata. Una curiosità riguarda proprio l'anticipazione rispetto alla prima edizione dal punto di vista del calendario, iniziare a fine agosto sta già facendo la differenza, lo scorso anno si partì a ridosso ormai dell'autunno, questa volta con delle settimane di anticipo. Sì, quest'anno abbiamo cominciato a fine agosto perché come dicevo poc'anzi, l'Uralia di Anche è cresciuta, è diventata una manifestazione del territorio sentita dalle persone, dagli atleti, dalle comunità che vogliono dedicare forse il periodo migliore della loro estate anche a questa piccola manifestazione che poi non è piccola, è piccolo il territorio però il sentimento che si nutre verso questo evento è importante. Dicevamo con il sindaco, ormai Sant'Angelo Lefratte è noto, nota per le cantine, anche attraverso le ruraliadi si vogliono da qui a pochi passi, si parla del Salernitano, attrarre proprio quelle popolazioni, quei territori, chissà coinvolgerle per queste date prefissate nel tempo. Noi guardiamo al Salernitano come guardiamo anche a Matera, non è anche un caso che collaboriamo con voi perché ci rendiamo conto che Savoia come Sant'Angelo, come qualsiasi altro comune, ho citato questi due perché saremo qui in queste sere, ma come qualsiasi altro comune del Marmo Melandro siamo in un vagone a traino della locomotiva materana, quindi guardiamo Matera, guardiamo la Campania perché siamo la porta della ruralità in Campania e speriamo di giocare anche il nostro campionato nel turismo lucano. I social, anche qui i primi riscontri attraverso i dati, i primi dati sugli accessi al sito, attraverso Facebook e anche Instagram, in immagini si possono già raccontare le ruraliadi. Sì, sì, poi quest'anno lanceremo ancora altre sorprese attraverso i social che hanno innescato il meccanismo virale di condivisione tra gli atleti, anche al di là dell'appartenenza alle singole squadre o al singolo comune. Quindi oggi costituisce ancora il nostro primo viatico di condivisione, di pubblicazione dei regolamenti tecnici di gara, anche di condivisione di momenti goliardici come le fotografie, i video dei percorsi. Rosa, tappa casalinga, la prova è quella della vendemmia che corrisponde un po' a quella per antonomasia di questo territorio. Si parla di vino e voi siete prontissimi? Sì, in questo caso sì, è molto piacevole soprattutto perché questa partita si trova in casa, quindi alla fine si trova anche con gli amici, è divertente, siamo in gruppo, in comitiva, quindi è un gioco che dovrebbe essere anche un po' difficile, visto che consiste nelle gare dei palloncini, però spero che ce la faremo. Prima volta come partecipazione alle Ruraliadi o comunque una di quelle che si è confermata? No, no, questa è la prima volta che io ho partecipato alle Ruraliadi. Perché hai scelto di prendervi parte? Magari hai sentito anche l'umore dello scorso anno e te ne hanno parlato così tanto, alla fine ti hanno coinvolto? Sì, sì, mi hanno coinvolto, poi gli amici soprattutto mi hanno spinto, dai vieni, vieni, è bello, ci si diverte, allora ho detto vabbè, allora proviamoci tanto, è un gioco, quindi mi metto in gioco, ecco appunto. Per ora va benissimo in classifica, dunque le prime due prove sono andate bene, giocare in casa è sicuramente un vantaggio oppure comunque tutto viene rimesso in gioco, le altre squadre danno battaglia e quindi lotta alla pari? Eh, lotta alla pari alla fine, sì, è lotta alla pari, ci mettiamo tutti in gioco di nuovo, quindi sì, speriamo di divertirci almeno questa volta, speriamo bene soprattutto. Cosa ne pensi delle Ruraliadi, è un'opportunità di crescita, di confronto con gli altri territori, con tanti ragazzi, cos'è le Ruraliadi per te? Le Ruraliadi soprattutto è un confronto tra altri paesi, altre culture, poi sono comunque una committiva con amici, nuove amicizie, divertimento e soprattutto anche visitare altri luoghi che può essere che prima non ci siamo stati, come Murulucano la prima tappa, ieri siamo stati a Sasto di Castalda e oggi soprattutto qui in casa a San D'Angelo le Tratte. La prova della vendemmia, tutta particolare, sono prontissime le squadre, in cosa consiste? Consiste nel riempire delle pompe rilatrici, abbiamo simulato invece del vino abbiamo messo dell'acqua, quindi bisogna riempire questa pompa che all'interno poi verranno riempiti dei palloncini, verranno lanciati dai concorrenti e riposti in un recipiente, in una conca diciamo così e poi verranno pigiati, chi totalizzerà il maggior numero di litri vincerà la gara, la gara comprende cinque concorrenti di cui due donne, se non ci saranno presenti delle donne verranno assegnate delle penalità. Richieste, velocità, precisione, cos'altro? Precisione, agilità e velocità. Secondo voi il fattore campo anche qui può essere determinante oppure no? Penso di sì, penso che sia fondamentale perché comunque si corre in casa e quindi penso che Sant'Angelo delle Fratte sia favorito, spero. Finora tutti i team molto sportivi o avete riscontrato qualche andamento un po' dubbio? No, 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 andamento dubbio no, non ce ne sono stati, i concorrenti sono contenti, felici di partecipare a questa manifestazione che è alla fine è un momento di aggregazione e quindi ci si diverte a fine serata con gli stand enogastronomici e con la splendida band che ci allieta, ci farà divertire e nulla, spero che sia una bella serata e auguro a tutti i concorrenti in bocca al lupo.